Intervistato da Gazzetta, il CEO della Juventus Maurizio Scanavino non ha riconfermato ufficialmente Allegri, gli ha soltanto ribadito la fiducia del club, col convincimento di ritrovare al più presto la chiave per ripartire e centrare gli obiettivi di stagione, dichiarazioni di pragmatica in un momento difficile. Che invece il DS Giuntoli abbia detto in privato da Allegri che al raggiungimento della qualificazione in Champions ci sarà il rinnovo, rientra fra i tanti si dice, resterebbe comunque a discutere il prezzo, di sicuro non alle cifre d'attuale contratto. E poi ci sono appunto le partite, quelle che decideranno tutto, a cominciare da Lazio-Juve e se Allegri la perdesse siamo sicuri che Scanavino e in France continuerebbero a dargli fiducia incondizionata, le valutazioni progettuali sul futuro subirebbero una decisa sterzata, quella che vorrebbe proprio Giuntoli, in attesa magari di un'assunzione di responsabilità anche da parte di Allegri. Alla Juve le dimissioni le diedero allenatori vincenti come Lippi e Conte, solo Allegri si ritiene esente da colpe.